Il suo problema è psicologico. Mi parli di questi sogni? Io inseguo delle persone e le uccido. La memoria usata come arma può mettere all'oscuro chi eri. Tu hai una macchina per uccidere. Ma può far luce su chi sei. Qui e dove sei nato. Di questo sono fatti gli incubi. Sei già stato. Non ti devi preoccupare. La fuga dell'assassino. Martedì alle 21, sul 20. Dammi solo un motivo per non ucciderli.